Ed i due punti di enfocco, il costo di vita è impossibile per essere un lavoro di realizzazione che la nostra comunità non può vivere, oggi la nostra attenzione trovi, arriva il banco, un altro interesse trovi, un altro cobrano, arriva la nostra comunità. Non ci vediamo nei dettagli per il nostro programma, per attenzione che parteci, che abbiamo bisogno di avere la possibilità che il monopolio dei banci in Aruba abbia un fine, abbiamo bisogno di avere la porta, abbiamo bisogno di avere l'instrumento necessario con il Banco Central per creare competenza dei banci, abbiamo bisogno di avere la porta per i banci e competire a livelli. Inoltre abbiamo 10 o 12 banci in Aruba, so be it. La meta è che il cittadano abbia un conto nel banco che abbia un servizio e abbia un miglior tarifo e non ci vediamo in modo che ci vediamo in un certo momento, che ci senti lo che è ricco e il banco che abbia un cera la cabeça e una storia naturalmente di abbia un ingasto altissimo con il nostro lavoro che si prende le nostre Inoltre abbiamo le nostre abri le nostre i Bannetti, noi abbiamo fatto la pagina di Aruba abbiamo un banco in Aruba arriva la comunità di Aruba. Tanto arriva parte del Banco del nostro programma. La nostra propria è di introduzire un lei con tutti i commercianti, tutti i commercianti in Aruba, per lei ha il diritto di avere un conto di banco. Tutti i cittadini hanno il diritto per lei di avere un conto di banco. E dovrebbe avere una condizione che notare qualcosa di nuovo in Aruba troppe parti del mondo, in cui la corsa che si sticcava, e il governo ha il diritto di avere un conto di gel e, lamentablemente, non c'è una cosa per fare una decisione di avere una legge. Il prossimo governo deve avviare che non porti un cittadino in Aruba che non ha avuto il diritto di avere un conto di banco se tutte le istanze in Aruba, anche le istanze del governo, è exigente di non pagare cash e di pagare con tarjeta come è la unica forma di avere il banco.